musica musica mi hai visto prima rieccoci di nuovo guardate in che poso sono morto ah ma si può usare tutta la mappa vieni copo c'è un fuzile qua guarda lo sta tirando in trappola e lui ci sta andando dentro oddio è lì copo è lì no vaffanculo oddio poi ah e se premi shift è più veloce si minchia si ho tirato un'accelerata chi sta attivando cose il traditore non ti preoccupare guarda mettiti vicino alle texture quelle rosa e nere guarda che belle guarda guarda oddio sono fuori dalla mappa è gigante ma si è vero non ci credo continuate state continuando a girarvi in tondo voi tre lo sapete ahia gian ma che cazzo fai vi è qua vi è qua vi è qua bastardo lo sapevo per te eh certo robbie robbie ma il tuo tentativo di far cadere ti ho fatto che non parlavi quando loro dicevano che gli avevano sparato comunque ari guarda fa proprio schifo sta casa è troppo ma chi diceva che gli avevano sparato io non ho sparato nessuno è bello quello robbie robbie il tuo tentativo di far cadere coppo sulla trappola per i topi no veramente voglio dargli il fucile e basta me l'avrei ucciso col fucile dopo che l'aveva preso sai che se cadi sulla trappola per i topi muori direttamente senza passare dal via ci sono un po' che chissà non prendo 20.000 lire no non prendi 20.000 lire ehi ciao sto cercando un'arma guardando il nuovo manano salendo si vede che ci vuole un po' caricare stamattina no 100 per capitale eh ma adesso scende non è un problema basta che non fai cazzate ti può buttarti giù da un palazzo ah dio ho fatto la per topi ma tolto un po' di vita ah oddio la trappola vedi sono armi in questo gioco perchè trovo non ne trovo eh beh eh beh basta e guardo il mio figlio cos'è che hai detto? cos'è che hai detto coppo? qualcosa riguardo un figlio ahahah chi è quello che è il figlio di putt ok? ah io pensavo ah volevo un altro figlio qualcosa di ciò eh già ovvio un altro figlio io ho già sei ne ho allora dove voglio il petto certo non c'è sei senza sette no? esattamente il detto io son bloccato però non morirò perchè ha con me un magneto stick ah si può spaccare ah si può spaccare cosa? ma dai spedere di sparare a casa si certo come no ma dai sai che si può spaccare? voglio sapere eh no di merda perchè sei il traditore perchè io voglio sapere che tu sei il traditore io sono il traditore si che lo sei no te lo giuro fidati di me che basta si metà vita mo per un salto oh cosa? quanta vita c'ha ah l'altro chi è che è spettacchi? che so spettacchi? vai capire chi è fai capire chi è il tore il tore ok io non posso più muovermi o venite voi o mi dispiace per voi io sono in una posizione abbastanza cazzo mi son bloccato da solo come un topo è buio chi è che era spente? io soffio però no ho sentito anch'io ho sentito guardate che bel gatto è un gatto ed è un gatto bellissimo un gatto molto spaventato ma bellissimo ho paura ma dove siete? non vedo nessun nome ah ok un nome lì ho paura altro nome lì madonna se dall'altra parte c'è proprio chi è stato? infatti ma che cazzo? io do un consiglio cioè per il traditore si? c'è ah hai detto si eh? no non sono io o attivate la luce o è impossibile che vi troviate dai non sono così deficiente da dire sono io il traditore eh eh sì certo certo lì con mancate solo voi due dove è andato? come hai fatto? sono caduto giù da una scala quanto lo sapevo che di tutto di tutto ti ho visto uccidere copo si ma anche io sapevo che erano un patino sparato ma non è morto quanta vita ti ho rimasta quanta vita ti ho rimasta? ecco son morto quanta vita ti ho rimasta? 1 1 1 da quando ti ho sparato io? si e io ho 11 minuti di batteria ah si dai facciamo un altro ah si dai cambio microfono no 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 mi servono armi te Womet ehi 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 sentite? sto morendo non puoi morire sentiamo basso non puoi morire come fai a morire? te sono andato sulla trappa come segno di buona fiducia prendila prendila grazie mi fido di te sto andando in giro anch'io un bar c'è john sei morto eh eh trova per trochi pfff quello tranquillo tranquillo tranquillissimo ma muori tranquillo 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 voglio andare giù vai ehi ci sei tu che non mi ne fa vai questa mappa ci son poche armi però eh ti vedo ah ho capito Dennis cosa dicevi che si poteva distruggere oh oh copo mi spara eh no non ti ho sparato io ti ho sparato io ti ho sparato ah si eh ma figurati ti ho dato l'arma come segno di buona fiducia eh dai non ti ho trovato un'arma yeee oh non ci ne erano non ci ne erano io ho dato io no no ci sono è stata inizio game mi è data si ma io ho cercato e non ne ho trovato nemmeno una no ma guarda che io gli ho dato la mia ma io non ce l'avevo più eh sono morto ma va schifo questa mappa almeno come mi vuole armi no no guarda che ci sono e bisogna solo trovarle è il bello perché le altre prendi le armi e vai l'ho suicidato per dire che non ho trovato niente e lo trovate due ne ho trovato trovato una pistola e quella che avevo dato a te ah muori muori no e poi bisogna anche avere fortuna e spawnare direttamente sulle armi come ho fatto io adesso è solo come quando si sta merando giustamente perchè adesso io ovviamente non ce le ho ancora oh due armi ho trovato ah ti sto mirando da me ti sto mirando sappi che io sono al grado sono finito fuori dallo stage di nuovo sto raggando molto devi seguire si ma l'abbia già detto se vuoi seguire è colpa della mappa troppo pesante si avevano come c'è in alcun modo you're an innocent terrorist but there are traitors around who can you trust and who is out to fill you with bullets watch your back and work with your comrades ma io ho capito cosa non hai capito dimmi hey comrade ti porta un'arma john ti porta un'arma seguimi se mi ammazzi ti ammazzo ok mi fai fuori con l'arma che stai fai sali queste scale sali queste scale no aspetta non quelle queste ho un'arma una l'hai trovata? così a posto me ne vado ti lascio lì con la tua arma testato io no me ne sono andato quindi non mi offre le palle non guardare me che non sono neanche dove sei tu a pianti coppo eh però non mi avete risposto cos'hai detto? non hai neanche parlato infatti quanti innocenti ci sono? è chiesto sì broadly eh coppo sono ehm è un terricorio ah ah ok ah ah ok che cazzo oh 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 ma che cazzo ma perché son morto? perché son morto? no come sono come sono morto No Sei un genio Sai che è la stessa cosa che ho fatto io all'altro? Ma sai che si può uscire di qua? What the fuck? Ma inspeziona i corpi morti Appena fatto No, non l'hai fatto No, di qua no Se scendo mi faccio male No, c'è la scala No, mi faccio male Ma c'è la scala Ah, no, è vero, è mezza distrutta Come si scende? Ho già fatto di un gatto E tu mi sa... Sì, l'ho vista Corri l'Axus Anche quello si sfonda, Dennis Lo so, ma non... Guarda dove sei... Fallo che diventa interessante questa partita Pensa se cado e uccido il traditore Che coppo Coppo hai chiesto quanti innocenti ci sono Perché chiedere quanti... Quanti traditori ci sono Quanti traditori è uno per forza Ma non lo sapevo Sì, coppo, coppo, coppo Girati, girati Vuoi vedere un easter egg? Girati, vieni verso di me Eh, cioè, via il dritto Scusa, sinistra No, 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 troppo Indietro, indietro, indietro Dritto, dritto Rientra, bravo La vedi quella roba lì? Devi andare esattamente sopra la parte gialla E ti dà un... Certo No, no, ti dà la vita Certo, certo Non ci credere Comunque hai Dennis sopra la testa Tu sei un malfidente No, Dennis, come ci sei arrivato lì? Eh, ce l'ho arrivato anch'io Ma che cazzo No, voglio capire No, John, secondo me no Secondo me è l'altro Cioè, secondo me è coppo Non c'è molto da dire Ah, perché mi spari? Perché siamo rimasti io e te E quindi uno dei due deve uccidere l'altro? E coppo no No, coppo, lui è tranquillo Coppo Allora voi due Dovete stare lì ancora molto? Eh, non so Se sta là dentro Anche lo devo fare io Non posso scendere Coppo, vai fuori e affrontalo Dopo non puoi scendere Basta che salti sopra il letto Sì Non credo che muori 50, più di 50 Vediamo 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 che percorso puoi fare per scendere No, non puoi fare nessun percorso Esatto Coppo non vuoi scendere Di grammatica Ma scusa Non è c'entra Non è c'entra No Dipende che cosa devi dire Quanto sei rimasto di vita? 67 Quanto? 67 Ari, guarda il tuo karma Per forza, spara a me Perché ho uccido la gente a caso? No, allora Roby era Sai dove mi hai ucciso tu, Dennis? Sì Roby era lì nel buio Con una pistola che sparava un tizio sotto Cosa dovrei pensare? Male Perfetti Chi c'è lì sopra? Io non stavo scendendo nessuno Io sparavo ai tizi Ciao Roby Io non ho un'arma Dammi un'arma Datemila Dammi un'arma Dammi un'arma Tranquilo Tranquilo Non posso, non ne ho Salvaggio Non ci sono armi Oddio Ah beh, perlomeno sono innocente Tranquilo 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 Non fare un ulteriore passo verso di me O ti sparo Colpo, fai un altro passo o muori Se ti muovi da qui ti sparo, Colpo Io non ho neanche una Ma fai a vedermi, scusa Minchia, un po' da lì ho perso 60 di vita Non ti muovere Ti chiedo, te lo dico io Ho perso 60 di vita Eh sì, infatti, è anch'io prima Puoi muovervi Oddio, non ne ho in bocca al troppo Io mi sa che dovrò fare il rifugiato politico Ah, ma sai Roby Se mi fissi E via Ah, questo qui è quello che ti manda su E se io volessi andare giù Non posso Bene Troppo? Oh 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 Non mi spara Dammi un'arma, ti prego Non ho nulla Non ti potevi aprire questo? Grazie Siamo aprile? Dietro di te, dietro di te, dietro di te Tennis Tranquillo, tranquillo, tranquillo Non mi so Non mi sparo Sono caduto per quello che ho perso No, tranquilli, tranquilli Sei ei Tranquilli No, tranquilli Non ti voglio Non ti voglio Non ti voglio Non ti voglio Dammi le tue munizioni nooo compu abbattene ti do 3 secondi per esologiare di qui 3 Dennis stalkeriamolo 2 1 ehi 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 di fianco hai un fucile in pancia di fianco no fermo fermo fammi uscire è ancora qua ehi 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 ah no no sei fermo ti prego ma fottiti io ando be vai ah ballando fortuna che vai dai che ha poca vita È pure stronzo Perché non è manco lui Eh, mi sparate? Che cazzo Sai tu che hai sparato a noi? Io ho sparato senza farlo apposta a Dennis Ho confermato le morti di Coppo e Dennis Guarda che... Ma che gente! Va bene Per la serie Il mio carmaner Il mio carmaner